Ciao ragazzi e bentornati con Rage 2, andiamo a fare un po' di missioni secondarie direi Via 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 Sempre più su Tan 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 Allora dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? La moto mai più, mai più Qua santuario dei fantasmi, difficoltà nemici 8 Luoghi di ritrovo e di venerazione dei fantasmi, i loro santuari sono covi costruiti e occupati con la forza Dai santuari i fantasmi eseguono incursioni per rapire, massacrare e seminare il caos Eh noi andiamo a rompere il cazzo sti qua Via la moto Ups Scusate Ho preso male le misure Io l'ho sempre detto di questa macchina di colpare con i sensori di parcheggio e non mi ascoltano E non mi ascoltano Che cazzo c'è qua? Ups Ah non è un posto che schiaccia le auto allora questo eh? No Mi avvicino a un grosso avamposto Sì? Ben Ah Sembrerebbe un santuario Non entrarci se non sei al 100% E' terreno sacro per loro, faranno di tutto per proteggerlo Benissimo Allora, un'arma cazzuta Mm 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 Canone di impulsi Qual è questo qua? Buono Questo mi ispira Oilà Già incazzati? Bene Ci penso io a voi Credo Perfetto Ok Oh shit Questi wing stick che tirano eh Fanno proprio male Fanno Cazzo Oilà Maledetti che non c'è di altro La faccia Lo dobbiamo mantenere caldo ragazzi Perché altrimenti Perde efficienza sto coso Ecco appunto Fanno i dash questi Ok È tutto Fantasmi eliminati È stato Tutto sto easy Cassa Arcaica Interfaccia Neurale Più due Cassa di sto Cacchio Ah là Dietro Dove? Ah lì sopra Money 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 E un datapad che presumo sia di là O almeno Credo Eccolo qua Ah già il dash Perché la defunta Non ci promette di mangiare carne Io ho fame Anch'io No Non è vero Prossima direzione ragazzi Parcheggio pericoloso Santuario dei fantasmi Livello dei nemici 6 Insomma Se questo era un 8 O il 6 Piano Maxi schianto Ups Io la perdi qua Comunque l'ambientazione è fantastica Che bella Molto bella Davvero Fermo lì Vai Walker Spacchiamo i Uhulu A questi Pronti? Ah Fallito Traffiche controllate Brevi ma potenti Ecco qua che sta carburando Inizia a carburare Perfetto Mendo cazzo sono Bene Troppo Troppo carburato Più che altro Mi preoccupano I colpi che Scrazzeggeranno A breve Credo Ne ho solo 29 Dove siete Infami? Dove sono? Piano di sotto? Mi sa di sì Ah Eccoli qua Ma sono Distantissimi Cazzo Ma così distanti Ma siamo sicuri Pare strano ragazzi Che sono così distanti Vabbè Ok Ah Il piano di sopra Sono Dai Un po' più su Allora Andiamo di qua Vediamo se c'è un modo Per salire In qualche modo Ah Ah Eccolo qua Quattro colpi Da usare Saggiamente Ecco appunto Classico pompa Che qui Non si sbaglia mai Ragazzi Vedete 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 Il cazzo è sparato Au Benissimo La cassa Arcaica Dov'è? Ah Eccola lì Da Qui dentro C'è Potenzialmente Mod arma Allora Vediamo un attimo Che è una vite Che noi non potenziamo Le armi qua Non vi ricordo neanche più Come si fa in realtà Cambio aspetto Tutto a posto Questo Potenziato completamente Qua manca un pezzo Qua manca un bel po' Qui siamo a posto A posto A posto A posto Pistola Vabbè D'altro ne fa cacare Per cui Vabbè Facciamo questo Facciamo questo Ricarica rapida Oppure capacità E finita E finita E finita Vabbè Ok Poi qui cosa possiamo fare Invece ragazzuoli Vediamo un attimo Vortice Non l'abbiamo mai preso Questo che è vergogna Scandalosica Ah ecco Infatti mi pareva strano Allora Devastazione Abbiamo sbloccato tutto Salto gravitazionale Sbloccato tutto Defibrillazione Qua manca un bel po' In realtà Però servono Potenzialmente Nanocritici Qua Nanotritici Scusate Progetti Vediamo un attimo Qua cosa possiamo fare Invece Le piogge Dei filtrite Ripristiano Una piccola Qualità di salute Vabbè Non so se serviranno Però questo qua È utile Ad esempio Il pilota automatico Allora Dove si va adesso Un sacco di cose Da esplorare Qua Così Ha intuito Vi va bene Come cosa Andiamo Che cazzo c'è qua Bene Voi cosa c'è qua Tutti giù Vediamo What is this Una caccia arcaica Ragazzi Che cazzo sono Quelle cose Forse Dovevo dirtelo Su quest'isola Non abbiamo Solo un problema Di fantasmi Oh no No Ci sono anche Dei feroci Zombie feltritici Ah bene Sono frutto Di esperimenti Dei fantasmi O reclute Infazzite Dopo i rituali In overdose A feltrite O almeno È quello Che si pensa Non sono sempre Aggressivi Ma quando lo diventano Sono pericolosi Perciò Ti conviene evitarli Se vuoi Troppo tardi Bene Vediamoli da vicino Ragazzi Cosa sono Ah bene dai Sono tipo Dei Cannibali Ehi là Oh cazzo Oh shit Cattivi In gruppo Cazzarola Stavano per farmi La festa Decisamente Feltrite Grazie Dov'è la Cassa Arcaica Lì sopra Arrivarci Cavolo È altissima Perfetto Perfetto Ma non Perfettissima In realtà Mi sa che per arrivare Lì sopra Dobbiamo andare qua sopra Sì mi avete capito Dai Più o meno Ah c'è un'altra Qua fra l'altro Quella No Dall'altra parte Viandola vitale Oh shit Ah Troppo corto Proviamo di qua Proviamo di qua Speriamo che si è tra di qua Sbagliato O forse no Vediamo Che cazzo No Perché non mi hai fatto il doppio salto Maledetto Infame Riprendiamo Ok Ci sono arrivato Il secondo tentativo Mi è andato abbastanza bene Che poi in realtà Bastava salire da lì Comunque dettagli In realtà no Siamo saliti dalla parte sbagliata Perché la cassa è di là Cazzarola Ah allora di là Perfetto Bene ragazzi Risolto il problema Di qua Perfetto 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 Mamma mia Mamma mia Salvati per un pelo Dai va Vediamo se riusciamo Ad uscire in qualche modo Da sto buco Maledetto Do cazzo si va Vabbè Cavolo Quanti sono Aiuto A posto A posto? No Non a povera Poverini Non li vidi neanche un po' Fermi tutti Ok Non mi ricordo più come si faceva il guizzo E ho guardato Alt Questo si che è utile Cavolo Super velocità per qualche secondo Speniamo un attimo Cosa c'è qui dietro Che sia un altro santuario Non mi piace questo posto Sarà uno dei loro campi di prigionia Oila Una missione secondaria ragazzi Un piccolo fortino Bene Sono contento che l'abbiano messo onestamente Ma la cassa di stoccaggio Ah Di sotto Sì Perfetto Boom Grandissimo Uilala Sguardata a metà quello Che fine E quella? Un po' scarsetto come mira eh Bravo Uila Cosa? 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 Così Giusto per Benissimo Da fuck Chi l'ha fatto esplodere quello lì? Ah Qua non c'è più nessuno In realtà Prendere fiato Mi fermo per prendere fiato E togliermi i sassi dagli stivali I loguri E sento l'eco delle loro grezze E sento l'eco delle loro grezze Voce alterata dalle affaltrite C'è qualcosa che li fa agitare Gli dà energia Continuo a muovermi E intanto che ci sono A sopravvivere Mancano solo poche ore di cammino Nella stazione della metropolitana Ah Questo qua voleva raggiungere gli altri Non c'è riuscito quanto fare O almeno crede La mia mente è a muta I miei turni si affronti Così Giusto per Cosa? Bene Wow Figo Era un po' quando non usavo lanciare altre Magari qua è un po' sprecato Però Spappolato Dai vai Meglio usare qualcosa di più classico La pistola per esempio Oila Bravi Adesso ti salvo Non ti occupare Ah già che non posso ancora bloccarlo Il coso Il sovraccarico Dopo però potremo Dove sono le cose Allora una cassa arcaica qua Tanta roba buona Immagino Perfetto Una cassa di stoccaggio qua Bene Ripulito E adesso Sei Sei ti salvo dai Per stavolta dai Ranger Pensavo di essere spacciato Ho liberato dei civili Ora la zona dovrebbe essere sicura Ottima notizia Ben fatto Walker Ok Vediamo dove andare adesso Qua Scendiamo Vediamo se riusciamo a potenziare qualcosa Nanotriti 3D1 Non abbiamo Allora Baritier Guizzo Vediamo qua cosa possiamo fare No Abbiamo sbloccato tutto qua Costituzione Questo qua Ammettete che Ogni tanto fa comodo Figo Ma non ci interessa Per di tanto Sovraccarico Buono Aggiudicato Bene Sta a posto Qua Oh Il numero di scariche Della fibrillazione Aumenta a 4 Bene Così se ci uccidono Abbiamo più vita Abbiamo possibilità Di avere più vita In realtà Cos'è questo? Cazzare Quale roba lì? Bah Scattare Insomma 150 metri Abbiamo fatto Speravo un po' Di più In realtà Che cos'è Questo complesso? Cosa sono Quei cosi? Cazzo è stato? Qui c'è un piccolo Avamposto commerciale Sembra sotto attacco Forse è uno dei nostri Entra e aiutali se puoi Lo apprezzeranno Sì Proviamoci dai Dove cazzo Sto sparando? Bene Aiuto Nemici? Là Non ti preoccupare Che adesso arrivo Non mi sono dimenticato Di te Dove sei? Qua? Ecco ti lì Qualcun altro? Pare di no Ups Sbagliato tasto Andiamo di qua C'è una cassa C'è una cassa arcaica Pare C'è anche un datapad Tra l'altro Bene Le voci vogliono Che sia scritto Perché? Nessuno dovrà leggerlo Eccola là Là in fondo Come ci arriviamo Là ragazzi Da qua Credo Almeno ci proviamo Sì dai Ha giudicato Questo percorso Più o meno Cazzo Vabbè Problema risolto E vai Gruppe del tormento Ripulita Giusto? Ah no Attive Difendi l'antenna Non ho fatto un cazzo Praticamente Ah Bisognava fare questo Allora Vediamo Eh già Adesso inizia il divertimento Adesso inizia il divertimento Arrivo Wow La potenza Non è nulla Senza il controller Avete capito ragazzi? Lo dicevano anche i genboi Ai tempi tor Wow 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 Ma si sta caricando Almeno l'antenna Spererei di sì Forti questi nemici Wow 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 Adesso passiamo le armi forti Ragazzi E' già E' già Uila Cazzo Ma le smettete Ancora Ah Era uno dei nostri Questo Mi sa che ce l'abbiamo fatta Da fuck Quasi fatta ragazzi Quasi fatta No Sbagliato C'è ancora qualcuno Torre per le comunicazioni Riavviata Che è fatto lì? Questa sì che è una notizia Bene Nooo ma volete dirmi che Sono andato lì? Ah no Rifornimenti aerei Se sono andato lì Non è che è fatto Questo Sono un cretino Allora Ma siamo sicuri? Ah Probabilmente mi sono sbagliato Dai Rumori stranissimi Cosa cazzo è quello? Oh C'è fatto Vabbè Andiamo qua ragazzi Va Via Come il vento Ma che bello il guizzo Siamo altissimi qua Pensavo peggio Cosa c'è Qui dietro Aiuta a difendere La stazione commerciale Ovviamente Certo che sì Ma lo sto già facendo Dove sono? No Cato Purtroppo Usare la concentrazione Ah Sono qua sotto Sono Ok Cazzo ci arrivo io di sotto Da qua Ecco Contenti? A posto Ops Grazie dell'aiuto Ranger Noi restiamo qui Prego 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 Ora l'avamposto Commerciale È al sicuro Ottima notizia Quegli insediamenti Sono i più vulnerabili Non sono protetti Come noi qui sottoterra Meno male che c'eri tu Ad aiutarli Forma di vita Senziani In avvicinamento Che è anche questo luogo Ragazzi è fatto Andiamo qua Andiamo qua Dì là Cazzo qua però è alto Oh shit Mamma mia Che botta No Niente questo Questo L'abbiamo Sprecato Forse era meglio Andare di qua Però Dove ci siamo infognati Forse riusciamo a salire Da qua però E sottolineo Forse No In realtà è altissimo Qua Porca vacca Ci ha toccato a fare Un giro del cavolo Andi qua Dai C'è andato Sei bene Meno peggio Del previsto Vai Dì qua 170 metri Chissà se hanno messo Anche un super mutante In questa espansione Magari ci stiamo andando adesso Sei andato a saperlo Who knows No Questo qua Sembrerebbe solo Una piccola zona Con delle cose Vorrei stare a guardare Ma i fantasmi avanzano Ho sentito che Il ranger È arrivato sull'isola Ne sono felice Forse finalmente Le cose Conbieranno qui Breve sosta Solo una breve sosta Prima di proseguire Verso il recinto del tetto Forse sarà tutto ancora lì Nomad Ok Allora 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 Adesso Prossima tappa Qua Quindi Di qua Pallata C'è una cassa di stoccaggio Qua secondo loro Ma dove Ce n'è una cassa di stoccaggio C'è una cassa di stoccaggio C'è una cassa di stoccaggio Qua sopra E poi qua sotto Ok Ora proprio sotto di noi Cazzo Vediamo un po' Come si può raggiungere Il cavo Nah Non è in modo giusto Questo eh Ma il cavo Si raggiunge quella cassa lì Da qua Credo No Ah Eccolo Era tutto molto più semplice Di quanto pensassimo Denaro Vabbè Schifo non ci fa il denaro Eh Verso di là Sento strane voci qui eh Non riesci mica a salire no? Vabbè Saliamo di qua Sembra un altro lancio di rifornimenti Ma che cazzo Poi là Distrutti tutti i cacca Incredibile Ok Localizzatore di rifornimenti attivato Ho visto il segnale Mando qualcuno a recuperarli Grazie mille Uff 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 Cassa di stoccaggio ovunque Ragazzi Beh andiamo a ripare Ah no 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 Wow Quanto tempo che non lo usavo questo Che figata Maledetto infame Ok Ok Sei contento? No problema A cosa è servito? Bene Ottima mira Mi dicono Maledetto Au Ma quanto cazzo? È indistruttibile quello lì Cazzo Vabbè No problema Ok Ma gli estremi estremi rimedi Perfetto Ehi Cosa? Ma che cazzo? Ah Incredibile C'è un secco di gente là sopra eh Ma adesso ci arriviamo ragazzi Non vi preoccupate Wow Cazzo Ho finito i colpi Come ci torniamo sopra? Da qua forse Ah Bene dai E ancora più sopra Come ci si torna adesso? Da qui non credo Hmm Bella domanda Quindi a fare il giro Per di fuori Mi sa Di nuovo Niente paura Boom Quanto mi diverto A rompere le cose I barilotti eh Ma non c'era qualcuno qua dietro Ma che cazzo? Ma ragazzi ma Cosa cazzo sta succedendo? Ah Sapete cosa? Questo qua è un bug È un bug proprio Perché hanno dichiarato Nella Nella cosa Vediamo un attimo se Eh infatti avete visto? Il nemico c'è lì eh È morto? Sì Datapad War E l'altra parte è più su Eila Ma dai Ma guardate dove si sono bloccati i nemici Ma non è possibile Quanti se ne sono bloccati così in giro? Cazzarola Non è possibile Ah eccolo qua Vabbè dai Ci sono un altro Ma non è neanche tanto nascosto questo Ok Ma il datapad Ah eccolo là Adesso l'ho visto Eh riusciamo a tornare indietro Cioè sopra Sì dai credo di sì L'avevo visto due secondi fa Do cazzo sta L'avevo visto prima eh Porca vacca Ah eccolo lì Si confonde qua Sulle orme del cercatore Il consiglio mi considera pronto Prenderò il sentiero del cercatore Iniziando da un cammino fino al piede del cercatore È un onore Dicono che forse vedrò persone defunte In tutta la sua gloria Bene E adesso Distruggi i contenitori di feltrite Davvero? Ah Sarebbero questi? Ah E io non l'ho neanche fatto Bene dai Sono un po' rincotrinco eh Perché la chiamano a pioggia di feltrite Quella roba lì non si sa eh Comunque va bene Gli ultimi due che sono qua sotto Perfetto Non resta molto a parte i fumi di feltrite Allora non respirare troppo a fondo ok? O voi ranger siete immuni In ogni caso ben fatto Walker Ancora questa? Ah no è un'altra eh Che cazzo? Ma vaffanculo Boom Bene Eh Interessante come cosa Ma Mai capito che sta roba qua ragazzi Veramente Boom Un'arma così Sfartalfara credo Non lo so Dai va mettiamoci a post di più normale va Localizzatore di rifornimenti attivato Ho visto il segnale Mando qualcuno a recuperarli Grazie mille Walker Perfetto Bene ragazzi Noi qua chiediamo la puntata Abbiamo fatto un sacco di cose Grazie Alla prossima Grazie a tutti